buongiorno buona gente questo cordiale saluto vi giunge dagli studi di etv e di radio center music per buongiorno e tv sei in onda anche tu puntualissimi anche questa mattina ormai ci stiamo facendo davvero l'abitudine per la vostra nostra rassegna stampa dalle marche dall'italia dal mondo partiamo oggi dal meteo dai perché siamo di weekend e allora vogliamo cominciare con un segnale positivo per il resto sarà una giornata abbastanza intensa e delicata come tutti i venerdì oramai da quattro settimane entriamo nella quarta settimana purtroppo di conflitto in ucraina oggi sarà una bella giornata sì con un po di nuvola a essere predominante rispetto al sole ma senza precipitazioni le temperature così vi diciamo subito che aria tira saranno più basse rispetto ai giorni scorsi potrebbe cadere qualche gocceriella e pioggia nella zona del fermano e dell'ascolano per il resto cielo nuvoloso non un granché ma diciamo facciamo le prove generali per il weekend sabato 19 domenica 20 giusto così un attimo un'occhiata a sabato 19 domani ancora pioggia per l'ascolano pioggia più debole per il fermano altrove cielo sereno o poco nuvoloso le notizie ora di livello nazionale e internazionale purtroppo cominciamo sempre con l'ultimo aggiornamento dall'Ucraina bombardamenti ancora nella provincia di Lugansk che è una delle due zone insieme al Donbass per cui la Russia chiede la possibilità di riconoscere che quello sia territorio russo il mercato di Kharkiv intanto in fiamme tre esplosioni nella zona dell'aeroporto di Leopoli rischio minaccia nucleare dalla Russia se la guerra si dovesse prolungare altro che trattative di pace ieri avevamo ipotizzato secondo alcuni osservatori che entro dieci giorni potesse arrivare un accordo Putin non sfonda dopo tre settimane di sangue e orrore ripeto siamo entriamo nella quarta settimana dieci giorni per vincere o finiranno le risorse staremo a vedere le notizie locali davvero non vediamo l'ora di poter raccontare qualcosa di diverso la primavera l'estate che arriva la voglia di recuperare la libertà dopo due anni di covid per ora tutto questo resta auspicio desiderata banda dello spray ricorderete la tragedia di Corinaldo siamo già alle notizie marchigiane riconosciuta anche l'associazione per delinquere ieri il processo un nuovo capitolo e noi eravamo presenti le casette del sisma per chi fugge dalla guerra in Ucraina il sindaco di Pieve Torina risponde per occhio che noi siamo ancora in emergenza una decisione quella della regione che contrasta quello che è il sentire di quelle terre così colpite prima dal terremoto e poi anche dal covid covid a proposito a fine marzo stop allo stato d'emergenza via anche il sistema dei colori oddio siamo in giallo oddio siamo in arancione che vuol dire aspetta posso uscire non posso uscire via anche quella sistema lì le decisioni che sono state annunciate ieri dal presidente del consiglio Draghi e noi qua oggi faremo calma 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 come dice Allegri sbagliando devo dire faremo un po il punto stiamo tornando davvero alla normalità ieri questa conferenza stampa è stato annunciato questo step by step cioè passo per passo che questo si può tornare a fare quest'altro non serve più Jessica buongiorno buongiorno Manuela buongiorno Franco buongiorno Riccardo di Osimo Webberi buongiorno ad Andrea dacci belle notizie almeno sul meteo sì dai oggi abbiamo detto saranno giornate un po particolari questa intanto è la diretta che abbiamo realizzato ieri per gli amici le amiche del 118 delle cruci dei volontari 30 anni ha compiuto in questi giorni il 118 il numero dell'emergenza quali prospettive se ne è parlato ieri in università all'università politecnica delle Marche è stata coinvolta anche la nostra emittente ringrazio l'assemblea legislativa delle Marche il piano lo rilancio così ancora giornali carta stampata questa è Ancona violenza e degrado lo assediano da anni la sfida del sindaco Mancinelli per il riscatto del quartiere i problemi esistono ma non è il Bronx controlli eventi nuovo mercato ci porto tutta la città questa la linea per il piano banda dello spray 70 anni di carcere le pene più dure per la strage in discoteca questo gruppo di giovani partiti dall'Emilia Romagna con l'intento di rapinare dice la sentenza sì con l'obiettivo anche di creare problemi alla salute delle persone non direttamente forse ma indirettamente ricordiamo la tragedia le sei vittime trovato a letto con una dodicenne una roba che butta là dietro avevo bevuto questa la sua giustificazione mamma in fuga dalle bombe per un altro titolo locale volo della speranza al sanzio tre ucraine con i piccoli arrivate da Cracovia sì ad un corridoio umanitario dicono signorini il sindaco signorini e il presidente del consiglio regionale a Dino Latini questa è una buona notizia la l'accoglienza la generosità è sempre una buona notizia per rispondere a chi mi chiedeva dacci buone notizie purtroppo a livello nazionale torniamo qua poi si preparino le amiche e gli amici di altri giornali che sono pronti là di altre città toccheremo tutte e tutti voi e come sempre guerra all'Ucraina ancora sirene a Kiev bombe russe dal Donbass a Leopoli il pentagolo che parla così come abbiamo trovato su Repubblica anche sulla stampa rischio di minaccia nucleare Biden oggi avviserà Xi Jinping di non aiutare il Cremlino io in questi giorni sto cercando di evitarvi le immagini più dure più crude guerra Ucraina Russia civili nel mirino raid continui su Kiev bombe a grappolo a Kharkiv qui si vede una ragazza che piange il suo fidanzato colpito a morte in mezzo ad una strada completamente distrutta i neonati sospesi della guerra in Ucraina perché sono 21 i bambini nati da madri surrogate che aspettano nei rifugi i loro futuri genitori in Ucraina è possibile fare questo meccanismo in Italia nel territorio no ma ci sono tante coppie di italiani che pur di coronare il sogno di una famiglia utilizzano la tecnica della delle mamme surrogate con l'inseminazione artificiale una mamma ucraina partorisce un bambino che poi viene assegnato ad una famiglia italiana per dirla in maniera molto molto banale chiedo scusa di questa velocità ma insomma il concetto è questo questi bambini sono nati e aspettano la le loro famiglie pensate una coppia qua in Italia che sia consapevole che c'è la propria creatura o comunque la creatura che hanno scelto la sotto le bombe ad aspettare c'è un video che ha fatto il giro del mondo ieri questo è anche se il tempo ha lasciato dei segni sul suo volto ma insomma è inconfondibile il taglio d'occhi di Arnold Schwarzenegger che ha mandato un messaggio forte alle truppe russe ha chiesto alle truppe russe di fermarsi ha chiesto a Vladimir Putin di interrompere la guerra tu l'hai fatta cominciare tu la puoi fermare Saverio ciao Maurizio buon weekend grazie Saverio complimenti alla tua Roma che ieri sera all'ultimo soffio all'ultimo respiro ha avuto ragione del Vitesse e quindi va avanti in Conference League buongiorno purtroppo segnato da brutte notizie vero Francesca ma noi proviamo anche a raccontare qualcosa di diverso Sandiran buongiorno Maurizio grazie sto andando troppo veloce dice un messaggio hai ragione vado un pochino più piano allora dopo Ancona ci spostiamo ad Ascoli se aveste problemi di segnale fatecelo sapere mi pare stamattina tutto ok ieri c'è stato un po' di trambusto è come quando si trasloca un attimino ma ho lasciato qualcosa là nella casa vecchia stiamo traslocando verso il segnale in HD e può questo determinare un piccolo problemino ma noi andiamo avanti carichi con la speranza che questo segnale digitale arrivi sempre più a Montefano non si vede questo canale perché grazie a proposito di quello che però era attorno alle 2.28 del pomeriggio questo messaggio magari nel frattempo tutto è migliorato vediamo speriamo dalla baraccola non vi vediamo più insomma basta risintonizzare risintonizzare perché è una piccolo piccolo gesto telecomando spingi il tastino ma un grande gesto per l'umanità buongiorno Maurizio sei pronto per l'esordio stasera in campo dopo 7 anni con i Dorical Lovers il tuo amico Brunelli più che amico io ho bisogno del mio fratello Brunelli perché stasera mi aggrapperò letteralmente alle sue braccia alle sue spalle ai suoi muscoli di ferro per vedere di fare meno danni possibili vediamo ci proviamo per fortuna che ho lui accanto una squadra intorno non so se debutterò come tutte le squadre giustamente bisogna ascoltare quello che dice il mister mi metto a disposizione con un po' di difficoltà fisica insomma 7 anni sono tanti il grande Albe Brunelli mi aiuterà mi aiuterà San Brunelli prega per il tuo compagno di squadra Via Roma spinta sul progetto vertice siamo a Macerata tra comune RFI Anas e Regione per fissare il nuovo cronoprogramma del sottopasso di Via Roma annosa questione per le amiche e gli amici di Macerata pronti più di 7 milioni di euro però i soldi ci sono l'iter procede spedito l'opera attesa da troppi anni tasse più leggere ai pensionati norma nel decreto ristori per chi va a vivere nell'area del sisma un'area quella del terremoto purtroppo depauperata di persone di famiglie la gente se ne è dovuta andare e adesso fa fatica a tornare in quei luoghi e allora l'idea qual è tasse più leggere ai pensionati che dovessero decidere di andare a vivere la parte più dolce più lieve finale del proprio cammino su questa terra proprio nell'area del sisma un po' come succede in Portogallo faccio un paragone ardito in Portogallo sapete ma non andate arrestate in Italia perché bellissima l'Italia si può andare da pensionati in Portogallo e avere una detassazione pazzesca perché anche la pensione si è tassata in Italia cioè uno paga le tasse tutta la vita mette da parte i soldi e poi però quella parte di soldi che ti sei messo da parte pagando le tasse in quel periodo di lavoro quando te la dà lo Stato la pensione te la tassa lo stesso anche se in teoria dice ma come l'ho già pagata vabbè però un po' in stile Portogallo questa idea mi piace mi piace questa possibilità che i pensionati vadano a ripopolare le aree del cratere reddito di cittadinanza questa la sovi fa arrabbiare Porto Recanati denunciati 10 furbetti la metà di loro risulta residente all'hotel house nel mirino della finanza sussidi per 50.000 euro la guardia di finanza ha denunciato 10 persone per aver indebitamente percepito come reddito di cittadinanza sussidi per circa 50.000 euro cambiamo va cambiamo argomento che se no ci viene il sangue amaro a leggere queste notizie voglio portarvi a qualcosa di particolare di bello perché abbiamo non è tanto questo bello avevo un altro intendimento quello degli scavi di piazza Cavour la storia che riemerge riaffiora questa porta Cavour che è stata ritrovata pur in parte durante dei lavori in centro nel capoluogo regionale ma giustamente mi chiedono anche in maniera più prosaica di spiegarci bene cosa cambia finalmente se non serve più il Green Pass insomma diciamo una via di mezzo andiamo a fare il punto dal primo mazzo finisce l'obbligo del Green Pass punto numero uno da aprile non sarà più richiesto il Green Pass sui bus e in generale sui mezzi di trasporto pubblico locale mentre continuerà a vigere l'obbligo di indossare le mascherine al chiuso e vi compreso l'autobus le norme sulle mascherine restano invariate fino al 30 di aprile sempre da aprile decade l'obbligo, attenzione, di Super Green Pass sui luoghi di lavoro per gli over 50 basterà il Green Pass base a chi ha superato questa soglia d'età per cui in linea generale l'obbligo resterebbe in vigore sui luoghi di lavoro dovrebbe essere richiesto solo il certificato base la capienza degli stadi tornerà al 100% insomma queste sono alcune delle norme che ieri sono state annunciate dal Premier Draghi andiamo di nuovo ai giornali locali poi ancora l'informazione nazionale grande Schwarzenegger ci vorrebbe lui dice un messaggio insomma ormai Schwarzenegger ha un'età però fa sempre quell'impressione là oltre il 70% dei nuovi contagiati ha tre dosi a dirlo è l'osservatorio epidemiologico delle Marche l'incidenza è cresciuta e salirà anche oltre il 40% ma le intensive si stanno svuotando perché? perché questa variante Omicron si conferma essere sempre meno cattiva da un punto di vista ospedaliero la strage di Corinaldo anche il Carlino giustamente la ricorda pena aumentata in appello per la banda dello spray quel drammatico incubo che si verificò tra il 7 e l'8 dicembre del 2018 ha inevitabilmente delle conseguenze molto severe sul fronte della giustizia l'influenza perché la curva torna a salire qui si parla di influenza influenza quella classica quella tradizionale tra il 7 e il 13 marzo 226 mila casi e anche questo è il segnale che il Covid sta lasciando terreno tamponi positivi al 50% 25% al Covid 25% ai virus influenzali si sta davvero abbassando la forza del Covid per cui riprende quota riprende campo l'influenza per intenderci l'anno scorso casi di influenza praticamente non ce ne sono stati 18 app ai ragazzi del 2003 come chiedere il bonus si chiama appunto 18 app da oggi ci si può iscrivere ecco come spendere i 500 euro riservati ai neo maggiorenni per la cultura tutte le informazioni si chiama bonus cultura sono 500 euro se avete in famiglia in casa una diciottenne questa può essere l'occasione buona per acquistare un mezzo tecnologico che ci permetta per esempio di leggere un libro fare delle serate di cultura teatro comprare un abbonamento del teatro insomma comprare dei libri non è che ci si possa fare proprio tutto giustamente è un bonus cultura ve lo spiegherò cosa sta succedendo nel sottosuolo di Piazza Cavour ecco il servizio la porta che è stata ritrovata il sopraluogo della sovrintendenza agli scavi di Piazza Cavour per eliminazione delle barriere architettoniche non ha lasciato dubbi quei resti sono i piedritti la struttura verticale di sostegno di una delle due aperture dell'ottocentesca Porta Cavour di Ancona sotto ci sarà tutto il resto la strada col pietrisco che veniva calpestata all'epoca le fondazioni per arrivarci bisognerà però scavare in profondità perché quelle riemerse per ora sono solo le macerie che comunque saranno messe in sicurezza inserita nell'ambito della cinta muraria ottocentesca che chiudeva Ancona dal Forte Cardeto alla Lonetta Santo Stefano Porta Cavour era il passaggio dall'interno all'esterno della città esattamente nell'attuale attraversamento pedonale tra Piazza Cavour e Largo 24 Maggio un ritrovamento importante per la città e la sua storia che non dovrebbe però rallentare il cronoprogramma dei lavori la sovrintendenza che dopo aver fatto il sopralluogo ritiene sono presi un paio di giorni per definire le modalità diciamo con cui conciliare quella presenza per un verso gradita con l'uso che ovviamente deve essere fatto di quello spazio quindi da quello che ci dice la sovrintendenza non dovremmo avere rallentamenti particolarmente significativi quindi in questo caso a differenza di altre situazioni penso solo all'ex Biradrera l'ex Birifizio Gelli quella cosa è stata ferma per mesi proprio per qui credo che nel giro di qualche giorno insomma dovrebbe essere definita la diciamo la mini variante ai lavori necessari per appunto conciliare quella presenza storica con con l'uso della vita quotidiana di oggi a preoccupare il sindaco Mancinelli piuttosto sono i tanti cantieri aperti in città che rischiano blocchi o ritardi a causa dei rincari delle materie prime e della disponibilità delle ditte aver ottenuto negli anni scorsi finanziamenti significativi e aver messo a terra come si dice letteralmente tanti cantieri che in un altro momento sarebbe stato solo un fatto di soddisfazione e di fiducia diciamo nel futuro oggi la situazione è complicata siccome abbiamo imparato da tempo che dopo essersi preoccupati bisogna occuparsi di fare in modo che la preoccupazione non diventi danno vero quindi messa da parte la preoccupazione lavoriamo perché i cantieri si chiudano ovviamente queste le immagini di piazza Cavour fa specie come si dice dalle mie parti torniamo a livello purtroppo internazionale terzo titolo il Corriere della Sera poi continueremo a sfogliare i giornali locali come sempre missili sull'aeroporto a Leopoli Leopoli ragazzi è dalla parte occidentale è a pochi chilometri dalla confine con l'Europa la nostra vostra Europa colpita una fabbrica bombe su Lugansk e Kharkiv non credo che Putin voglia fermarsi ha detto Blinken l'Italia ricostruirà il teatro di Mariupol lo ha annunciato Franceschini e ho letto questa mattina in rassegna stampa che Zelensky ha ringraziato ufficialmente l'Italia per questa decisione dentro quel teatro nelle fondazioni negli scantinati c'erano centinaia di persone un centinaio circa 130 sono uscite vive in 130 usciti vivi dalle macerie a est altre stragi di civili questo è quello che racconta la guerra è un'immagine invece questa che vi ho già mostrato ma rapidamente vado avanti questa ragazza che piange il fidanzato a terra Zelensky che ieri ha parlato al Bundestag buttate giù questo muro si sa che i tedeschi sul fronte del concetto di muro sanno ahimè molto bene cosa significhi banda di drogati pulizia denazificare le parole scelte in queste settimane da Putin sempre più dure un lessico di guerra a cui dovremo abituarci Putin ha fatto una prima missione ieri sulle difficoltà che sta riscontrando la sua operazione ma ha detto anche puniremo i traditori della patria quindi guarda anche minaccia anche sul fronte interno nuovo decreto è ufficiale dal primo maggio addio al Green Pass con il Green Pass ciao ciao